Benvenuto nel mio canale, siamo di nuovo con te per le notizie sui tabloid. Non dimenticare di mettere mi piace e iscriverti al mio canale. Dopo esserti iscritto per essere avvisato di tali video più velocemente. Non dimenticare di premere il pulsante di notifica. La scorecard dei social media ha ottenuto il massimo dei voti. Il sorbetto al mirtillo rosso ha fatto un grande successo. La serie Cranberry Sherbet parla di una giovane donna che cresce in una famiglia secolare, che va da una sposa di famiglia conservatrice. Nella serie, come Bars KLC con Cedilla, Evry Malasia, Zlatur Kogliu, Sibel Tassoglu, Gospel Specialist, Dogo Kangungor, Setter Tanrogen. Giocatori di successo. Oltre a Doga e Fatih, nella serie TV Cranberry Sherbet, apparsa davanti al pubblico di show tv il venerdì sera. Il riavvicinamento tra KVLCM e il personaggio di Ume non è passato inosservato. La serie Cranberry Sherbet incontra il pubblico ogni venerdì su show tv. La produzione, che ha attirato l'attenzione con i suoi soggetti diversi, è riuscita a ottenere il massimo dei voti dal pubblico. Nomi come Bars KLC con Cedilla, Evry Malasia, Zlatur Kogliu, Sibel Tassoglu, Mioi Dutzman, Dogo Kangungor, Setter Tanrogen. La colonna sonora dei social media della serie, in cui era nel cast, ha ricevuto il massimo dei voti. Sherbet della Corona sarà parlato di più. Cranberry Sherbet, firmato da Gold Film, è in una lotta senza sosta con i suoi rivali venerdì sera. Anche se non può battere la serie Kingfier, batte comunque i suoi altri rivali. La serie, uscita con il suo terzo episodio la scorsa settimana, è riuscita a trovarsi al decimo posto in total, 4 gradi in EU e 5 gradi in ABC1. Oltre che in televisione, della serie si è parlato anche sui social media. Dopo l'analisi di Adva.tv, la serie Kingfier ha ricevuto 85.900 messaggi. Ha annunciato che la serie Cranberry Sherbet si è classificata al primo posto con 96.300 messaggi. Era così nelle nostre notizie, se ti piace, premi il pulsante mi piace e non dimenticare di iscriverti. Ci vediamo nel prossimo video. Arrivederci.